Salve a tutti, sono Don Flavio, ormai ci conosciamo da tempo e sono il parroco di Casciano di Murlo, Vescovado di Murlo, Ville di Corzano e Monte Pescini. Leggiamo insieme il brano del Vangelo di oggi, venerdì della nona settimana del Tempo Ordinario. Dal Vangelo secondo Marco In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva Come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo. Disse il Signore al mio Signore Siedi alla mia destra, finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore. Da dove risulta che è suo figlio? E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Ecco, il brano del Vangelo che abbiamo ascoltato oggi è tratto dal capitolo dodicesimo, tre soli versetti, dal 35 al 37. E con questo brevissimo brano si concludono le cosiddette dispute che Gesù ha nel Tempio con i farisei, i dottori della legge, i sadducei, insomma con una sorta di elite del popolo di Israele, proprio lì, all'interno del Tempio, nel cuore pulsante della fede di Israele. Gli viene interrogato sull'interpretazione delle scritture, sull'interpretazione della legge. Abbiamo ascoltato ieri di un giovane, di uno scriba, che gli fa una domanda riguardante la legge, che gli chiede qual è il primo dei comandamenti, e il brano si concludeva proprio dicendo che nessuno aveva più il coraggio di interrogarlo. Ecco, finito l'interrogatorio degli altri, finite le domande degli altri, adesso è Gesù che domanda, è Gesù che da essere interrogato diventa colui che interroga. E allora pone una domanda a tutti, agli ascoltatori ovviamente, ai suoi ascoltatori in quel momento, quindi tutte le persone che prima gli hanno fatto le domande adesso sono sottoposte a un quesito. Ma allo stesso tempo interroga tutti i credenti e interroga anche noi che crediamo in lui. E lo fa mettendoci di fronte due concezioni, o meglio, la credenza di Israele riguardo al Messia, che era figlio di Davide, sarebbe venuto dalla discendenza di Davide, del grande re Davide. Dunque è un Messia e un'attesa messianica tutta politica per cui il Messia sarebbe venuto per ristabilire le cose, per rimettere a posto l'ordine costituito da Dio, potremmo dire. Cioè restituire al popolo di Israele il suo posto nel mondo, la sua libertà contro l'oppressione del potente di turno che in quel momento è l'impero romano. E poi c'è un'interpretazione di un brano della scrittura, poiché va bene il Messia è figlio di Davide, ma Dio stesso parla di un Messia che viene elevato alla destra di Dio. Oracolo del Signore al mio Signore, siedi alla mia destra. Dunque il Signore, pertanto Dio, dice al suo Signore, cioè al Messia, di sedere alla sua destra. E' un Salmo famoso perché è il Salmo 109-110 ed è uno dei Salmi, come tutti i Salmi, che tradizionalmente vengono attribuiti a Davide. Dunque Davide parla di un Messia elevato molto al di sopra di tutti gli uomini, perché siede addirittura alla destra di Dio. Dunque c'è una divinizzazione, potremmo dire, del Messia. Eppure il Messia è figlio di Davide. Allora Gesù chiede ai suoi ascoltatori, a chi ha davanti in quel momento, e ovviamente lo chiede anche a noi, come è possibile che il Messia sia figlio di Davide, ma che contemporaneamente venga associato a Dio e dunque sia anche figlio di Dio. Gesù sta in realtà autorivelandosi, sta concludendo la sua rivelazione come Messia e come figlio di Dio, figlio dell'uomo e figlio di Dio. Il percorso del Vangelo di Marco e in generale, il percorso del Vangelo è proprio questo, arrivare a una risposta di fede. Ecco perché interroga anche noi. E ci dice se noi crediamo in un uomo, e dunque crediamo in una persona, e se questa persona noi accettiamo che possa essere anche figlio di Dio. La natura divina e umana di Gesù ci viene posta di fronte. E allora comprendiamo che essere cristiani, credere in Cristo, non è credere in un'idea, in un'ideologia, in una filosofia, in un pensiero, e nemmeno credere in una serie di principi umani o principi universali, come possono essere la libertà, la bontà, l'amore. No, no, assolutamente. Tutto questo discende, ma discende da un fatto ancora più grande. ed è qui il nocciolo, il nucleo, potremmo dire, della nostra fede. Perché la stessa domanda che Gesù ha fatto ai suoi, a Cesare di Filippo, adesso la sta facendo a noi, che magari ci lambicchiamo il cervello sull'identità di Gesù, e dobbiamo tenere insieme tutti i pezzi che il Vangelo ci offre. Perché, vedete, dopo questo brano, il Signore contemplerà la scena dell'offerta della vedova al Tempio, e poi pronuncerà il grande discorso escatologico, lasciando definitivamente il Tempio, per poi vivere l'esperienza della passione, della morte e della risurrezione. Dunque, di fronte agli occhi dei suoi ascoltatori, e anche nostri, c'è il Messia, tanto atteso, che però finisce su una croce, disprezzato, reietto dagli uomini, umiliato, sbeffeggiato, crocifisso, morto, e poi sepolto. Ecco, quindi, dobbiamo, siamo chiamati a rispondere a questa domanda. Io in chi credo? Credo in un Dio onnipotente, che mette a posto tutte le cose, e che risponde perfettamente alle mie esigenze, alle mie domande, ai requisiti che io pongo a Dio, oppure accetto che Dio a me si riveli, attraverso il suo Figlio, un Messia che è vero uomo e vero Dio, e che si mette all'ultimo posto, e che si mette a servizio, e che mi salva proprio nella maniera che solo Dio comprende, solo Dio può pensare, nella sua infinita fantasia, che è appunto una morte redentrice. Perché solo così poi il Messia può essere intronizzato alla destra di Dio, solo così, servendo fino in fondo, umiliandosi fino alla morte, alla morte di croce, come dice San Paolo. Allora ecco che ci lasciamo interrogare, ci lasciamo continuamente interrogare dal Signore, e nella sua rivelazione, gli chiediamo di illuminare la nostra fede, spesso fragile, spesso incespicante, ecco davvero, che fa una grande fatica, ma che allo stesso tempo ha un grande desiderio nel cuore, perché ognuno di noi ha il desiderio di incontrare il Signore, di incontrarlo, e di aprirsi alla sua parola di salvezza. Io resto con te. Un abbraccio e un saluto a tutti. Se il commento al Vangelo ti è piaciuto, clicca qui sotto su iscriviti, e non dimenticare di attivare la campanella, per rimanere sempre aggiornato, sui contenuti del canale YouTube, della Pastorale Giovanile dell'Arcidiocesi di Siena, Colle di Valdelsa, Montalcino. Grazie.